ok bene ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video per chi non mi conoscesse di nuovo su questo canale mi chiamo elvis sono un imprenditore digital mi occupo di tutto quello che riguarda appunto la vendita di prodotti online e anche appunto di prodotti e servizi tutto quello che riguarda l'e-commerce il dropshipping le facebook as le sponsorizzate online insomma tutto quello che riguarda questo mondo e appunto dopo tantissima richiesta e ho deciso di fare questo video quindi che prodotti vendere adesso quindi siamo nel quarter forse ma nell'ultimo quarto dell'anno quindi quarter for vuol dire appunto ultimo quarto dell'anno cioè i mesi di ottobre novembre e dicembre dove si va appunto a fatturare a vendere più di quanto tutto l'anno veramente messo insieme tant'è che ci sono dropshipper che io stesso conosco che fatturano molto più in questi tre mesi invece che tutto l'anno messo insieme ok quindi questo è molto importante bisogna sapere anche che prodotti vendere in questo ultimo quarto dell'anno infatti qua ti farò vedere una lista di sette prodotti ok che ho scelto appunto da una lista veramente infinita di prodotti quindi ti invito di guardare questo video fino alla fine e di osservare ogni dettaglio ogni cosa che ti andrò a dire perché sarà molto molto importante prima di andare a succo del video annuncio il vincitore per gli uoi dei 50 euro dello scorso video che lo lascio qua da qualche parte e per favore appunto scrivimi su instagram così possiamo organizzarci e ti mando il tutto e appunto ragazzi come ad ogni video e anche in questo giveaway in pali appunto di 50 euro per vincere basta che metti il like a questo video sei iscritto al mio canale e mi lasci qua sotto un commento riguardante il video riguardante insomma tutto quello che è l'e-commerce dropshipping e tutte queste cose qua e nel prossimo video andrò a scegliere vincitore e appunto così via ok quindi il primo prodotto sono una sorta di di stivaletti ok stivaletti che comunque ho trovato sempre qua appunto sull'express non che ho trovato io ma ho delegato il lavoro per quanto riguarda la ricerca del prodotto ma sono degli stivaletti molto molto interessanti perché questo perché siamo in un periodo un pochettino più più freddo ci sono le piogge c'è la neve eccetera eccetera quindi l'acquisto di stivali stivaletti tutto quello che riguarda la calzatura un pochettino più pesante è sicuramente in aumento e questi stivaletti hanno quel qualcosa di particolare quel qualcosa di unico da effetto wow che è assolutamente possibile andare a farci anche dropshipping qua il prezzo medio il costo medio del prodotto si aggira intorno ai 10 dollari ok se si va anche a vendere in europa vabbè facciamo intorno ai 10 euro giù di lì e mettiamo caso che si vendono gli stivaletti anche a 39 49 euro c'è lo stesso comunque un margine appunto molto buono 30 30 euro circa 20 30 euro circa che sono assolutamente ottime riesce a fare un 34 per rispetto al prezzo originale del prodotto però l'importante quando si tratta di scarpe io comunque ho venduto tanto in scarpe ma l'importante quando si va si vanno a vendere delle scarpe ovviamente che il prodotto sia assolutamente di qualità che il prodotto arrivi velocemente ok perché magari può essere un regalo può essere un qualcosa di questo genere e una persona lo vuole in quel tempo lì e stai assolutamente attento alle taglie avevo fatto anche un video su questo appunto che prodotti evitare è una cosa da starci attento sulle scarpe appunto alle taglie perché se una persona una ragazza in questo caso perché appunto per le donne la maggior parte ti ordina questi stivaletti e la ragazza ha un 39 di piede tu gli mandi un 41 per forza di cose ti chiede rimborso oppure ti chiede il reso e quindi assolutamente da starci attento però un prodotto veramente veramente ottimo che questo quarter for potrebbe andare veramente veramente in modo pazzesco poi il il secondo prodotto qua vediamo questa sorta di pantofole per la casa ok sembra un po strana come cosa perché sicuramente sarai abituato a vedere sempre gli stessi prodotti i renetti a drop shipping vedendo su qualche tool le solite insalatiere tagliaverdule tutte quelle che a me sinceramente non piacciono per niente quindi piuttosto meglio concentrarsi su dei prodotti che sono ad alto valore percepito che eventualmente risolvono un problema o soddisfano un bisogno e in questo caso che abbiano un effetto wow e che sono anche in forte richiesta quest'anno ok soprattutto in quest'ultimo quarto dell'anno quindi c'è freddo c'è la neve c'è la pioggia c'è umidità ci sono determinate cose determinate feste che puoi veramente approfittarne per andare a vendere in questo periodo qua ok comunque queste pantofole anche queste solitamente non si vedono facilmente nei negozi ok e si potrebbe fare tranquillamente drop shipping anche con queste pantofole sono comunque non sono comunque per niente male ok la qualità delle foto è buona l'unica cosa appunto tu stai guardando qua con una schermata di aliexpress ovviamente tu lo percepisci come un prodotto di basso valore ok però se facciamo uno store come si deve di qualità una bella grafica e un buon copy tutto quanto veramente veramente buono magari uno store di nicchia incentrato solo sulle pantofole solo sulle calzature può risultare essere un prodotto veramente ad alto valore percepito qui vediamo ad esempio 10 dollari più o meno di scontrino qua su aliexpress fornitore medio aliexpress come ti consiglio come ti ho consigliato anche in altri video è molto importante andare a cercare anche un fornitore migliore perché in questo quarter for ci sarà molta molta più richiesta il volume di vendite sarà molto più alto quindi dovrai aver bisogno di un fornitore assolutamente buono e che abbia anche uno stock e che ti spedisca ovviamente velocemente però anche queste qua sono delle pantofole veramente ottimo ci si riconduce sempre all'argomento freddo umidità e neve sta in casa tutte queste cose che sono veramente ottime sempre appunto da un effetto a un qualcosa di particolare quindi non per forza il prodotto tra virgolette winner deve per forza risolvere un problema può essere anche un prodotto tipo questo o tipo appunto gli stivaletti che hanno quel qualcosa nel design quel qualcosa di unico che porta le persone a dire cavolo questo prodotto è veramente veramente bello mi piace un sacco e quindi lo voglio adesso questo in sostanza è la definizione di effetto wow quindi non la solita cinesate che fa veramente schifo un plasticone inutile che nessuno comprerebbe ma anche dei prodotti tipo questo quindi ad esempio calzatura ad esempio stivaletti pantofole può essere veramente qualsiasi tipo di cosa ma che sia ad alto valore percepito ok poi vediamo successivamente questo set box a esplosione ok quindi è un box tipo regalo dove si vanno a mettere dentro le foto tutto quello che riguarda magari ricordi tutte queste cose qua ok sicuramente c'è molta molta richiesta nel periodo di febbraio perché ovviamente per san valentino queste cose qua ma il problema maggiore in questa fase dell'anno nel quarter four quindi ottobre novembre dicembre è che le persone si fanno tanti regali il problema dei regali è che solitamente si scarseggia nell'ottenere nel trovare dei regali originali ok è un prodotto veramente ad effetto wow risolve diciamo anche un problema soddisfa un bisogno cioè quello di effettivamente trovare un prodotto un regalo che sia veramente originale quindi non il solito braccialetto che fa insomma un po schifo quindi alla fine la ragazza o ragazzo finisce che ha 10.000 braccialetti sul polso ma avere un qualcosa di unico con dei ricordi un qualcosa che può essere estremamente emotivo però questo prodotto qua è importante che abbia una buona creative che abbia un buon angle e che assolutamente tutto il marketing sia strutturato a dovere quindi questi sette prodotti da intendere che sono dei prodotti che possono essere dei potenziali winner che tu stesso puoi andare a testare anche oggi ma devi sapere tu stesso andare a venderli perché ok tu trovi un winner ma quello devi rendere un winner e questo è veramente importante poi successivamente il quarto prodotto sono dei guanti ok sono dei guanti praticamente anti scivolo touchscreen impermeabili per il caldo e queste cose qua può essere anche una banalità questo ma effettivamente tante tante persone cercano questi questo genere di prodotti o perché i guanti grossi non sono touchscreen o perché magari non sono riscaldanti o perché non sono impermeabili di solito i guanti che si comprano appunto d'inverno d'autunno e queste cose qua fanno veramente cagare accusato il francesismo però comunque sono prodotti veramente veramente ottimi e ripeto non guardare appunto solamente la schermata di aliexpress ma ragiona più sul fatto del prodotto come puoi andare a crearti una creativa un video creativo anche delle immagini veramente buone strutturare un buon marketing dietro avere un angle che fa veramente paura e uno store fatto bene ok perché ha sempre la presentazione che fa tanto la percezione però questo può essere un potenziale winner che tu stesso puoi andare a testare ed è veramente ottimo successivo prodotto è una sorta di tappetino riscaldante ok anche questo come come dei prodotti più stagionali perché d'estate insomma non è che d'estate vai a comprarti questo genere di guanti ok ma appunto questo è il periodo per approfittarne per fare anche per fare anche casse poi con i profitti lì andare a rinvestirli poi anche in altre store anche in altri prodotti e così via oppure anche crearci un brand perché con gli stivaletti assolutamente puoi anche andare a crearci un brand è un qualcosa di molto più grosso avere un catalogo di stivaletti di insomma di scarpe queste cose qua comunque questo qua il tappeto riscaldante eccetera può essere anche questo un potenziale winner perché ad alta richiesta io stesso comunque ne ne uno non questo qua esatto ma ne ho uno appunto perché a volte soffro di schiena perché sto magari 14 ore al giorno davanti al computer comunque lavoro lavoro tanto anche se potrei benissimo liberarmi un sacco di tempo visto che insomma faccio il nomade digitale tutte queste cose qua quindi mi occupo di business online però effettivamente ci sto veramente tanto dietro al computer allo schermo quindi a volte il mal di schiena e la cervicale queste cose qua possono possono arrivare però questo prodotto qua è veramente ottimo è un prodotto che risolve un problema ha sì un effetto wow si trova sì su amazon ma se riuscite a strutturare bene il vostro marketing il vostro angle e far sì che le persone che arrivano sul vostro store acquistino questo prodotto molto molto di impulso allora sicuramente riuscite anche ad andare in profitto riuscite anche a fatturare grazie a questo prodotto qua ok quindi come ho detto questi possono essere dei prodotti winner ma l'importante è renderli dei winner poi successivamente questi pantaloni jeans ma con all'interno una sorta di pelliccia ok semplicemente per tenere a caldo come i vedi come vedi comunque il tema principale qua è tenere caldo però anche questo è veramente un prodotto estremamente estremamente buono perché può essere ad alto valore percepito anche le immagini qua sono veramente ottime sono di qualità l'unica cosa qua nei vestiti come avevo spiegato anche in uno scorso video appunto devi stare attento ai vestiti cioè sulle taglie perché magari se tu hai la warehouse hai il magazzino in cina devi starci attento appunto sulle misure che sono differenti le misure cinesi sono differenti dalle misure europee e sono differenti dalle misure americane nel caso vuoi vendere negli Stati Uniti o vuoi vendere in Europa oppure in Italia quindi stacci attento mi raccomando alle taglie però comunque come prodotto è veramente veramente ottimo ti consiglio di testarlo perché è una bomba l'unica cosa struttura bene come ti ho detto il tuo funnel la tua creativa il tuo video il tuo store insomma tutto quanto deve essere fatto appuntino e devi rendere questo prodotto un winner ok poi l'ultimo prodotto che è in sostanza un set di un set educazionale ok sia per fare comprare le frasi per i bambini sia comunque per andare a contare e queste cose qua questo genere di prodotti soprattutto in realtà a Natale vanno veramente veramente tanto perché di solito i regali maggiori fatti ai bambini cosa sono per le per le bambine sono comunque le bambole per i bambini invece i maschi sono di solito magari le macchinine queste cose qua e parlando da questo punto di vista cioè i giocattoli educazionali quindi giocattoli per sia intrattenimento ma sia soprattutto educazionali sono veramente cresciuti tanto nell'ultimo periodo dopo appunto dopo appunto la pandemia ed è veramente un prodotto che può essere un potenziale winner e grazie a questo lo puoi anche andare a testare a vedere appunto se ti porta un ritorno se ti porta un ROI se ti porta appunto un ritorno sull'investimento e poi andare a strutturare per diritti uno store veramente di nicchia fatto veramente bene e tutto incentrato sulla nicchia mamme e bambini e fare uno store per diritti di nicchia sui giocattoli educazionali puoi fare non solo questo puoi anche andare a testarne anche molti altri ok quindi mettere ad esempio questo prodotto come main product e avere anche altri prodotti di contorno sempre incentrati come ad esempio giocattoli educazionali poi il piccolo bonus che ti do ok è questo prodotto questo prodotto nel quarter four io ti sconsiglio veramente ma veramente ma veramente tanto di non venderlo una cosa che ti sconsiglio è di non vendere questi prodotti e le insalatiere e i tagli a verdure e il tagli a cocomeri e tutte le cose per la cucina tanti messaggi ricevuto in direct su instagram di questi prodotti dei soliti tagli a verdure tipo questo multiuso che lo trovi nei mercati e sono arrivato ad un punto dove pensavo veramente cavolo con tutta questa gente qua che mi invia sempre questo prodotto qua devo veramente cominciare a bannare e a bloccare proprio la manetta tant'è che ho fatto una live anche ultimamente quindi se ti interessasse ma sicuramente ti interessa ti invito appunto a seguirmi anche su instagram perché appunto ogni ogni tanto faccio delle live molto molto esplicative mi fate comunque un sacco di domande io vado a rispondere veramente informazioni di qualità e persone anche che interagiscono tant'è che l'ultima live eravamo circa in 70 80 persone circa quindi ti invito assolutamente a partecipare e appunto ti andrò a sconsigliare vivamente questo prodotto perché fa veramente schifo ok è orribile è il primo prodotto che di solito il dropshipper medio principiante che approccia a questo mondo pensa cavolo questo qua sarà un winner e invece no fa veramente schifo è orribile e ti sconsiglio vivamente di vendere perché ti porta solo ad avere nulla perché non ha quel qualcosa di particolare si potrebbe avere una qualche risoluzione di problema ma niente più di tanto e poi è bassissimo di valore percepito quindi quando lo guardi appunto sembra una tipica cinesata quindi ti consiglio di evitare e ti consiglio di non mandarmi questo prodotto in direct su instagram perché se no veramente ti banno quindi ragazzi dopo questi sette prodotti vi invito assolutamente appunto a seguirmi su instagram perché faccio ogni tanto delle live quindi per partecipare e essere anche più persone possibile per darvi più informazioni possibili eccetera quindi ti invito assolutamente di seguirmi lì e tra l'altro molto importante vai anche ad iscriverti al mio gruppo facebook ecommerce virtuoso che ti lascio appunto qua sotto il link dentro troverai appunto tante tante informazioni potrai fare tutte le domande appunto di cui avrai bisogno una risposta il mio staff e gli altri membri del gruppo ti potranno aiutare gruppo assolutamente serio chi cerca di fare stronzate cose strane queste cose qua lo butto immediatamente fuori ok quindi dentro troverai informazioni serie persone serie e che vogliono appunto dare una svolta appunto alla loro situazione e tutte queste cose qua e per non dimenticarti ho lanciato ho reso disponibile il mio ebook con la mia strategia cioè dropshipping virtuoso che ti lascio sempre qua sotto il link avevo fatto appunto un periodo di lancio con delle offerte eccetera quindi lo troverai appunto qua sotto il link ti lascio tutte le informazioni lì comunque oltre questo e prima di chiudere tutto eccetera come ti ho detto io ti ho dato questi sette prodotti più uno che è da evitare assolutamente ti ho dato questi sette prodotti ma è anche importante è altrettanto importante saper vendere quel prodotto lì quindi ad esempio ti ho dato sì dei prodotti però un conto è lo vedi sull'express un altro conto ti fai uno shop ti fai uno store veramente veramente di qualità fatto bene ok con un design particolare con un tema magari premium con un logo veramente originale con un branding anche dietro con una creative fatta bene con un angle con un marketing veramente studiata appuntino e lì comunque il prodotto è un winner ok quindi bisogna di per sé avere alla base un buon prodotto ok che può essere un potenziale winner e poi trasformarlo in un winner perché se io ti do questi prodotti vai a copiare le ad in giro fai uno shop uno store con una pagina prodotto che fa veramente schifo con delle immagini orribili che sembrano delle cinesate una descrizione orribile tutte queste cose qua anche se ti do questi prodotti tu non venderai lo stesso quindi è importante sì avere un buon prodotto ma è altrettanto importante saperlo vendere ok appunto su questo possiamo anche andare a approfondire e scrivimelo qua sotto nei commenti se vuoi un approfondimento su tutte queste cose qua sulla vendita sulla psicologia dell'acquisto eccetera eccetera e appunto andiamo ad approfondire comunque per questo video è tutto fammi sapere cosa ne pensi se vuoi anche altri video di questo genere e ci vediamo al prossimo video qui al BSE alla prossima iscriviti al BSE